Renato Bariotti è il nuovo sindaco di Loreto a Prutino ma aspettiamo il brindisi. Sindaco, lo so che è indaffarato ma io le devo fare qualche domanda. Ha vinto il sindaco, ha vinto l'IDA del Comitato, ha vinto la lista 20-30 che ha chiamato in causa tanti giovani in una partecipazione attiva. Ha vinto Loreto a Prutino perché sono oramai 4 anni che il Comitato lavora su Loreto e c'è una partecipazione generale di tutti i cittadini. Chiaramente oggi si votava, i cittadini non hanno votato al 100% a noi, naturalmente siamo al 50% e comunque anche chi ha votato le altre liste l'ho fatto solo per una questione di appartenenza più o meno ai partiti che hanno formato le altre due coalizioni. Pensiamo al futuro, il primo punto dell'agenda non può che non riguardare le risorse della terra di Loreto. Assolutamente sì, le nostre eccellenze sia dal punto di vista agricolo e sia dal punto di vista storico architettonico, quindi le faremo interagire e già nel giro di qualche anno otterremo i primi risultati. Il primo punto in assoluto però da mettere a segno? Palazzo Comunale. E poi? E poi tutto l'indotto intorno al Palazzo Comunale con il polo museale che riattiveremo assolutamente in brevissimo tempo perché dovremmo riaprire tutti i lucchetti che l'amministrazione precedente in dieci anni ha chiuso. Ricordiamo anche che Loreto oltre che essere la terra dell'olio DOP ha avuto il riconoscimento dal 1996 è terra anche di grandi cantine che sono conosciute a livello internazionale e ha 37 siti archeologici. Assolutamente sì, il nostro comitato che poi è andato a concludere con una lista elettorale vede la presenza della rete d'imprese, una delle più grandi a livello provinciale con le maggiori cantine presenti sul nostro territorio, sono almeno 10 e adesso coinvolgeremo tutte le altre eccellenze del territorio a partire dal tondino del tavolo. Il suo messaggio ai loretesi anche se lo vediamo è visibilmente commosso? Sì, non sono commosso ma sono emozionato sicuramente e assolutamente lavoreremo tutti insieme, tornerà tanto entusiasmo che sicuramente ci aiuterà a risolvere il 50% dei problemi solo con l'entusiasmo. Adesso tutti in coro, lista 20-30, forza! Urrà! Renato! 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 Renato!